Instancabile sostenitore Sir Arthur Conan Doyle, 1858-1930 Creatore del celebre Sherlock Holmes Instancabile sostenitore del contatto con i piani superiori di esistenza Lo convinsero gli esperimenti che condusse personalmente con numerosi strumenti Per divulgare il suo credo, Conan Doyle tenne conferenze in tutto il mondo e scrisse libri che, grazie alla fama di cui godeva contribuirono molto alla conoscenza dell'ipotesi medianica Secondo lo scrittore, l'ectoplasma potrebbe essere una sostanza primitiva nella quale le energie psichiche scorrerebbero nei due sensi come l'elettricità lungo un filo di rame Una volta emesso, l'ectoplasma diverrebbe il supporto nel quale potrebbero attuarsi tre psichismi quello dello strumento, quello dei presenti e quello di individui trapassati Si avrebbe così un fenomeno composito con tutte le contraddizioni che possono manifestarsi nei vari fenomeni Quella di Conan Doyle era un'eccellente teoria che però aveva la definitiva debolezza di provenire dalla mente e che come tale si perse con la mente Grazie mille Al prossimo episodio Grazie a tutti.